Ciao amici, il periodo festivo è fonte di gioia ma anche di eccessi alimentari che diventano gonfiore, tossine, disagio e possono rovinare questo periodo. Oggi vediamo le 7 migliori bevande detox con cui intervallare i bagordi o correre ai ripari per sentirci meglio sgonfi e depurati velocemente. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Frullato di melagrana e latte di avena. La melagrana è ricca di acqua e antiossidanti ideali per spingere il corpo a fare detox. L'avena fornisce fibre e ha un buon effetto depurativo. 2. Frullato di cetrioli e prezzemolo. Il cetriolo aiuta a drenare e sgonfiare, meglio bio per frullare anche la buccia. Il prezzemolo fresco è ricco di vitamina C che aiuta il corpo per il detox. 3. Succo di arancia. È ricco di vitamina C ma anche di potassio, un mix perfetto contro il gonfiore. Inoltre il succo di arancia è diuretico depurativo ed è più efficace al mattino. 4. Frullato di mela, cetriolo e zenzero. La mela è un frutto medicamentoso che non disturba ma anzi regola la glicemia. Il cetriolo depura e lo zenzero dà una spinta al metabolismo. 5. Tisana di menta e limone. La menta è antisettica e contrasta la fermentazione e il gonfiore intestinale. Il limone è il re degli alcalinizzanti e ha un sicuro effetto detox. 6. Frullato di arancia e zucca. La polpa della zucca cruda si può frullare e ricca di fibre e minerali che favoriscono il detox e insieme all'arancia forma un cocktail antiossidante. 7. Succo di carota, mirtillo e arancia. I mirtilli hanno un elevato potere depurativo e drenante e sono alleati delle vie urinarie. Arancia e carota aumentano l'effetto antiossidante. Avete visto quanti modi sani e gustosi di rimettersi in forma presto e bene? Per conoscere tante altre ricette detox e dimagranti è facile. Iscriviti al canale con un click così e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Mangia sano, bevi detox e vivi meglio!